avrebbe tentato di uccidere il marito dal quale si stava separando offrendogli una crostatina realizzata con una marmellata di aspetto simile al mirtillo ma che invece conteneva atropina una sostanza altamente velenosa presente anche nelle bacche della pianta bella donna dopo l'episodio avvenuto intorno a Natale sono scattate subito le indagini che hanno portato la donna residente a Imola agli arresti domiciliari con l'accusa di tentato omicidio Abbiamo eseguito oggi alle prime ore della mattinata una ordinanza di custodia agli arresti domiciliari nei confronti di una donna di Imola che è accusata di tentato omicidio nei confronti del coniuge reato che sarebbe stato perpetrato attraverso l'avvelenamento del coniuge mettendo all'interno di una confettura di marmellata utilizzata per confezionare delle crostatine una quantità di atropina che poteva essere letale le indagini sono partite immediatamente dopo che la persona era entrata in ospedale per ricorrere alle cure dei medici perché avvertiva i primi sintomi i medici si rendevano subito conto che si poteva trattare di un avvelenamento e lui conservava ancora una parte della crostatina che gli era stata preparata confezionata dalla moglie che non aveva potuto mangiare sul posto perché andava di fretta e che però aveva ancora con lui veniva portato tutto al centro veleni e il centro veleni poi ci confermava quello da allora partirono le indagini e che hanno consentito di fornire alla autorità giudiziaria un quadro indiziario che non lasciava dubbi sul fatto che la sostanza all'interno della crostatina potesse essere stata messa dalla moglie